Oggi è stata una giornata intensa, abbiamo iniziato dal briefing con i cuochi per condividere il progetto Tony Maccaroni di Edimburgo. Hi, this is the second day for us in Scotland and we started our day with the briefing with our chef. Abbiamo continuato la giornata amalgamandoci tra cuochi, perché i cuochi saranno quelli dell'edimburgo e stiamo preparando una bellissima festa privata per domani sera. We spent all day in the kitchen preparing a wonderful and rich buffet for tomorrow evening. Le portate sono tante, sono i sapori italiani che vogliamo presentare in questo meraviglioso location. È una festa privata, ma voi non preoccupatevi, perché dal 24 saremo a Tony Maccaroni di Edimburgo. Tomorrow night there's a private party for the book launch of Fabio Campoli for Tony Maccaroni, but don't worry because from 24 november you will taste all the new dishes of Fabio Campoli at the new Tony Maccaroni in Queensferry Road, Edinburgh. Bye! Bye! Ciao!